Benvenuti nel mondo degli orologi Noah. Noah è un marchio di orologi di lusso svizzero fondato nel 2003. Il marchio si concentra sulla produzione di orologi di alta qualità con un design innovativo e contemporaneo. Grazie alla sua attenzione ai dettagli e alla qualità, Noah è diventato una scelta popolare tra gli appassionati di orologeria di lusso in tutto il mondo. Gli orologi Noah sono realizzati con materiali di alta qualità come l'acciaio inossidabile, il titanio e il carbonio, e sono disponibili in una vasta gamma di stili e colori. La combinazione di materiali di alta qualità e design innovativo crea orologi di lusso che non solo sembrano fantastici ma pure durano nel tempo. Molti degli orologi Noah sono dotati di movimenti svizzeri di alta precisione e offrono funzioni avanzate come il cronografo, il GMT e la riserva di carica. Noah ha una forte presenza sul mercato asiatico, in particolare in Cina e Giappone, ma è anche ampiamente distribuito in Europa e negli Stati Uniti.